Cambiamo argomento, presentazione del settimo Campo Scuola della Protezione Civile a San Mauro Torinese dal 30 settembre al 4 di ottobre. Vediamo. Si terrà a San Mauro dal 30 settembre al 4 ottobre la settima edizione del Campo Scuola della Protezione Civile, un evento dal grande valore addestrativo poiché le diverse specialità della protezione civile operano insieme in scenari realistici, condividendo l'azione con i corpi dello Stato e approfondendo metodi e conoscenza dell'equipaggiamento con tecnici e dirigenti, ma anche un momento di condivisione con la cittadinanza del valore dell'impegno e del sacrificio di tante persone che dedicano se stesse e il proprio tempo alla sicurezza degli altri e del territorio. Il Campo Scuola della Protezione Civile è un'iniziativa nata all'interno del centro servizi ed è bello che questa iniziativa sia arrivata alla settima edizione. Tutte le cose che continuano e crescono vuol dire che sono una risposta vera, non solo per i cittadini, che a mio giudizio vedendo questi volontari che si continuano a preparare possono essere ancora più tranquilli perché sanno che questo volontariato li aiuterà veramente in momenti del bisogno. E poi una grande attività di educazione e prevenzione con i tanti giovani, ci saranno tantissimi ragazzi che vedranno e riusciranno a provare le iniziative di questi nostri volontari in questa cornice di San Mauro, una cornice di una realtà viva, vera, e quindi come sempre la solidarietà che ravviva luoghi della nostra periferia, della nostra provincia che hanno bisogno di essere valorizzati. Quest'anno abbiamo delle innovazioni notevoli, è un programma che parte da sei mesi prima, abbiamo coinvolto più istituzioni. Abbiamo delle innovazioni date dal fatto che c'è un piano di ricerca dispersi, di persone scomparse, che è elaborato dalla Prefettura che per la prima volta viene testato nella sua completezza. Abbiamo fatto la pianificazione mirata e per la prima volta abbiamo come formatori l'Aquestura Torino e l'Ufficio Persona Scomparsa che viene a fare la formazione specifica ai volontari in aggiunto all'aspetto tecnico perché purtroppo questo piano, benché sia attivo da un anno e mezzo, stenta a decollare, quindi si è riscontrata l'esigenza di approfondire anche questo campo. Poi abbiamo iniziato invece un percorso con la città metropolitana che è durato sei mesi di formazione specifica sulle nuove forme di comunicazione in emergenza, quindi l'applicazione APRISC, che sono nuove tecnologie che consentono ai volontari di avere una partiativa anche durante le calamità per consentire di avere una forma di segnalazione certificata sul campo di quello che succede. E questo è sicuramente un'innovazione. Poi abbiamo le cose più classiche, quindi l'incontro con 600 studenti delle scuole di San Mauro Torinese e poi formazione specifica da parte del Politecnico di Torino, dalla regione Piemonte alla città metropolitana, dall'associazione Disaster Manager e dall'associazione Itaca, che è un'associazione non profit all'interno del Politecnico.